Dal Vangelo di Matteo In quel tempo, Gesù disse ai Suoi Apostoli Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta. E chi accoglie un giusto perché è giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è mio discepolo, in verità, io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Sorelle e fratelli carissimi, celebriamo oggi la tredicesima domenica del tempo ordinario. Ed è anche la prima domenica del mese di luglio, mese dedicato normalmente al riposo, alle ferie, alle vacanze. Quando si va in ferie, quando si va in faganza, è sempre importante sapere bene cosa mettere in valigia. Non possiamo infatti mettere le ruote alla nostra casa. Desidereremmo portarci tutto perché tutto ci sembra importante, ma occorre fare delle scelte perché, specialmente se dobbiamo prendere un aereo, la nostra valigia non può essere troppo grande, non può essere troppo pesante. Quindi bisogna fare discernimento, bisogna scegliere bene e prima cosa mettere in valigia. Per non mettere cose inutili ed evitare invece le cose che sono davvero importanti. In un qualche modo Gesù, nella conclusione di questo secondo discorso del Vangelo di Matteo, il discorso missionario, sta chiedendo ai discepoli che aveva inviato allora e a noi, che siamo i discepoli di oggi, di capire ciò che davvero è essenziale nella nostra vita, ciò che davvero non può mancare nella nostra esistenza. Ai discepoli ha detto di non aspettarsi una accoglienza principesca, di non aspettarsi tappeti rossi sui quali poter camminare tranquillamente ricevendo applausi, perché l'annuncio del Vangelo, la testimonianza del Vangelo che siamo chiamati a fare è qualcosa che mette in discussione le tradizioni degli uomini, che mette in discussione il potere politico, il potere religioso, il si è sempre fatto così. Il messaggio di Gesù è totalmente innovativo, il messaggio di Gesù è rivoluzionario, il messaggio di Gesù, se accolto, cambia il modo di ragionare, il modo di parlare, il modo di vivere. E sembra che Gesù, con queste ultime raccomandazioni, vada proprio oltre ogni limite. Ci chiede infatti di amarlo più della nostra vita, ci chiede di amarlo più di chi ci ha dato la vita, i nostri genitori, ci chiede di amarlo più di coloro ai quali noi abbiamo dato la vita, i nostri figli. Insomma, come dirà San Benedetto nella sua regola, nulla deve essere anteposto a Cristo e all'amore per Lui. Perché, come ci diceva anche Benedetto XVI, una società, una umanità costruita senza Dio o contro Dio, alla fine è una società, un'umanità che va contro l'uomo. Dare al Signore il primo posto, mettere Gesù al primo posto della nostra esistenza, significa essere capaci di dare ad ogni cosa, ad ogni situazione, ad ogni persona, il giusto posto. Naturalmente Gesù ha detto che Lui non è venuto a portare la pace, ma il fuoco sulla terra, ovviamente il fuoco dello Spirito Santo, il fuoco dell'amore, che è venuto a portare la spada sulla terra, naturalmente non come espressione della violenza, ma come espressione della sua parola, paragonata nella Bibbia una spada a doppio taglio. Infatti a Pietro, che nella sera della passione ha estratto la sua spada e ha colpito il servo del sommo sacerdote, Gesù ha detto rimetti la tua spada nel fodero, non è con la violenza che si costruisce il mondo nuovo, il regno di Dio sulla terra. Nelle beatitudini aveva detto beati i costruttori di pace e aveva nella spiegazione delle beatitudini detto amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori, fate del bene a coloro che vi hanno fatto del male. Quindi è evidente che il richiamo al fuoco e alla spada non è nel segno della violenza, ma nel segno dell'amore, dello Spirito Santo nel segno della sua parola. Dobbiamo quindi amare Gesù più della nostra vita. Dobbiamo amare Gesù più dei nostri genitori, dobbiamo amare Gesù più dei nostri figli. Nel Vangelo Gesù ha sempre salvaguardato la famiglia e la dignità della vita. Ha detto ai farisei che erano ipocriti perché per non pensare ai loro genitori si erano inventati delle regole per cui ciò che veniva offerto al Tempio poteva essere tolto ai genitori. Gesù dice prima onorate i vostri genitori, è anche un comandamento del Signore. E ugualmente ai genitori dice di amare i propri figli, di fare del bene ai propri figli. Nella famiglia si respira la gratuità, si respira l'amore più bello che la società di oggi e di ieri possa offrirci. Però la realtà che stiamo vivendo ci dice che una famiglia senza Dio più facilmente si disgrega una famiglia senza Dio, più facilmente va in rovina. Quindi rimettiamo al primo posto l'amore di Dio, rimettiamo al primo posto l'amore di Gesù e accogliamo, abbracciamo la croce di Gesù. Questo ci ha detto il Vangelo di oggi e questo è il motivo per cui mi vedete qui in questa stanza del nostro Museo Diocesano di Lanciano dedicata proprio alla crocifissione, a fianco di una bellissima opera del 1500 attribuita a Giorgione o alla sua scuola e contornato da altre immagini della passione di Gesù, della sua croce. Perché prendere la croce di Gesù non significa prendere le proprie sofferenze questo lo sappiamo già, non possiamo farci nulla capitano nella vita di tutti le sofferenze o le croci come le intende il mondo ma prendere la croce, abbracciare la croce, accogliere la croce significa fare dell'amore la cifra della propria vita. Infatti la croce che Gesù porta sulle spalle, questa opera si chiama proprio Cristo porta croce, è l'amore, il dono della sua vita dato a noi per la nostra salvezza quello che anche noi dobbiamo fare, dobbiamo scegliere di donare la nostra vita la nostra vita ci è stata data in dono, nessuno di noi si è fatto da solo anche chi lo pensa, anche chi lo presuppone e lo dice a tutti che si è fatto da solo, la nostra vita ci è stata data in dono e della nostra vita dobbiamo fare un dono. Poi il Signore ci dice in che modo possiamo fare della nostra vita un dono anche accogliendo coloro che vengono nel suo nome Gesù infatti ha detto chi accoglie voi accoglie me noi siamo inviati e siamo proposti per essere accolti dagli altri e se gli altri ci accolgono, accolgono Gesù stesso se noi accogliamo gli altri che vengono nel nome di Gesù accogliamo Gesù stesso e poi siamo chiamati ad accogliere i profeti gli amici del Signore, gli amici di Dio coloro che ripetono al mondo la parola di Dio coloro che ci indicano le strade del Signore le strade sulle quali dobbiamo camminare prima di tutto accogliamo i profeti accogliendo il loro messaggio poi accogliamo i profeti dando conforto alla loro vita mettendo in evidenza la bellezza del loro messaggio il fatto che il loro messaggio viene da Dio poi, come ci ricorda la prima lettura nell'accoglienza di Eliseo da parte di una famiglia possiamo accogliere i profeti accogliendoli proprio materialmente nella nostra casa offrendo loro alloggio e vitto poi il Signore ci dice che dobbiamo accogliere anche i giusti se il profeta parla a nome di Dio il giusto non parla con la bocca ma parla con la vita il giusto è colui che ci trasmette la vita di Dio attraverso la sua esistenza proprio come diceva San Francesco ai suoi frati parlate sempre del Signore se necessario con le parole ma fate parlare la vostra vita esprimete attraverso i vostri comportamenti che siete abitati dal Signore che lo Spirito Santo è nel vostro cuore e un'ultima forma di accoglienza che il Signore ci chiede di avere è verso i piccoli ai quali dobbiamo offrire anche semplicemente un bicchiere d'acqua ma Gesù si raccomanda che questa acqua sia fresca cioè che l'accoglienza non sia fatta solo per farla ma sia fatta bene dobbiamo accogliere i piccoli che ci chiedono poco ma dobbiamo farlo nel miglior modo possibile in questo modo saremo annunciatori in questo modo saremo testimoni del nuovo regno che il Signore è venuto a portare nel mondo della nuova umanità della parola del Signore che come una spada vuole far penetrare nella nostra vita nella vita della Chiesa nella vita del mondo intero il suo amore buona estate a tutti Grazie a tutti